Mi pare che è il Movimento 5 Stelle che non riesce a immaginare di entrare in questo dialogo. Noi l'abbiamo immaginato fin dall'inizio quando abbiamo accettato la richiesta di Renzi di partecipare a un percorso largo e condiviso per le regole del gioco, che è diverso da stare nella maggioranza di governo. Noi siamo all'opposizione della maggioranza Renzi, siamo all'interno di un percorso costituente che cerca di rifare le regole del nostro Stato e lì più gente c'è, più forze politiche ci sono e meglio è, fuori di dubbio questo. Mi pare che il Movimento 5 Stelle sia lui che mette pregiudiziali o pretende dei percorsi che sono incompatibili con una via seria alle riforme. Noi con Renzi stiamo lavorando fin dal primo giorno in cui ha detto facciamo un percorso condiviso sulle riforme. Chi si aggiunge strada facendo ben venga, meglio tardi che mai, ovviamente condividendo la parte di percorso che è stata fatta fino a quel momento. Io credo che anche in queste ore al Senato si stia trattando gli ultimi dettagli della riforma del Senato. Non sono cose da poco, quindi sono dettagli importanti. Io non so fare una previsione di come finirà, sono 8-10 giorni molto importanti sulla riforma del Senato e ogni angolo nasconde delle insidie. Però l'impianto complessivo credo che sia almeno istradato nel giusto percorso. Stiamo lavorandoci, se tutti ci lavorassero seriamente come ci lavora Forza Italia io credo che si arriverebbe al risultato. Fino adesso siamo stati francamente l'interlocutore più affidabile, pur stando all'opposizione che ha avuto Renzi sul percorso delle riforme, anche più affidabile, mi consenta del suo stesso partito. Aspetta, signor.